E hai battuto le uova, due uova con un po' di sale e nella ciotolina. Ci ho messo pure il pepe. Io no, non ci ho messo il pepe. Hai fatto i crackers spriciolate. Hai messo la carne prima nell'uovo e poi l'hai ripanato con la farina di crackers. Mi fa poco a poco riscaldare l'olio. Ci ho messo l'olio di oliva, ma si fa con l'olio per friggere, insomma. Con l'olio di oliva, ci ho messo un po' di sale. Non lo so, l'avevi messo nel uovo il sale. No, l'ho messo pure dopo l'ho messo. E quindi ci sono piacute? Si.